Questo è il torrente Sestayone nella Omonima Valle. Io sto facendo una velocissima riflessione di fronte alla bellezza, alla maestrosità, soprattutto alla continuità di questo scorrere delle acque, da sempre e ancora per sempre. È una manifestazione di certezza, di sicurezza, in un momento come quello che stiamo vivendo, dove di certo e di sicuro non ci può essere altro che questo. Pensiamo alla politica, alla precarietà, alla provvisorietà, al pressappochismo di tutto quello che ci viene propinato dalle televisioni, dai walktalking, come si chiamano, che cavolo perché io non li guardo. E siamo costretti la sera, come digestione, siamo costretti di vedere certe facce da tolla. Non faccio nomi, ma no perché ho paura di essere, come dire, querelato, ma io me ne posso anche sbattere le scatole. Ma veramente sono ripetitivi, sono ignoranti. Se ti ascolti il loro dialogo e il loro eloquio, ascolterai delle sfondioni di italiano. Non parlo delle altre lingue perché non ne conoscono nemmeno una. E allora non rimane che il rifugio di questi spettacoli sempiterni della natura. Arrivederci amici.